cari figli anche oggi vi invito a pregare in questo tempo per tutti coloro che soffrono che vivono le loro vie crucis pregate per loro affinché accettino la croce come volontà di dio e affinché dio si glorifichi attraverso di loro rendiamo grazie per questo messaggio che il re ha voluto donarci attraverso la vergine maria vi saluto e vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore